Buongiorno ragazzi, siamo pronti per l'avventura, si parte per Holbox. Per arrivare a Holbox ragazzi bisogna prendere una van che ci porta fino a Cicchilà e quella di prendere un ferry. La van ci è costata 350 pesos, circa 15 euro, ma io sono locale pagato 250, circa 10 euro. Arrivati a Cicchilà ragazzi ci saranno tipo 90 gradi, fa caldissimo. E' un uomo torcia. Madonna che caldo. Dai andiamo a mangiare, andiamo a pranzo e poi prenderemo il ferry che ci porterà Holbox. Andremo a pranzo a questo ristorante tipico, partiamo. Due ragazzi ci sono preso questi gamberi con il bacon, un po' di verdurine. Andiamo a prendere il biglietto per il ferry per Holbox, qua, e poi ci imbarcheremo lì. Ragazzi abbiamo comprato il biglietto per il ferry per Holbox, è stata una fucilata. Quanto avete pagato voi? 840. Ci sarebbe un tipo 19 euro. Io da locale ho pagato 360, circa 15 euro. Minchia! Arrivati ad Holbox ragazzi. Abbiamo appena attraccato. Vamos! Allora ragazzi siamo arrivati all'isla di Holbox. Adesso, vabbè questo è il caso di taxi, no? Non farvi capire. E noi vogliamo affittare una macchinina da golf per girare tutta l'isola. Siamo arrivati al nostro hotel, camping, non ho ancora capito che cosa abbiamo pronotato. Allora entrando, sentiamoci questa Catrina figata, assurda. All'alto ragazzi c'è la piscina. Questa è la nostra stanza. Questo è il bagno. Allora ragazzi, ormai è troppo tardi, ci sono arrivati nel mare, quindi mi godo questo cocktail. E ci vediamo stasera che vi faccio vedere la festa qui a Holbox. Ciao! Ti sembra un cocco normale, ma dentro ce l'hanno messo. Abba Nero. Che non è vero. Vodka. Rum. Poi abbiamo preso un po' di totopos e un po' di guacamole. La banda è riunita, allora adesso andremo a lavarci ovviamente, poi andremo a cena e stasera andremo al Cè, che c'è una mega festa, tutta la isla andrà lì a fare la serata e quindi ci vediamo dopo. Ciao ciao! Ciao a cena ragazzi, stasera andiamo a cena qua. Guardate che figo! Entriamo! Siamo grazie alla festa ragazzi, si entra! Chi va parti? Chi va parti? Che bomba! E' un'epica di sempre ai carai di! Guarda quanta schiuma! Buongiorno ragazzi dal nostro hotel con mega piscina, ieri bellissima serata con scream il primo party, adesso colazione, poi punta coco, punta mosquito e altre cose che non vi svelo. Ci vediamo dopo, ciao! Questa è la nostra colazione, io ho preso una bull di frutta, Elena ha preso questo pane con Nutella e la frutta, e invece Roby, semi di chia. Semi di chia in questo po' di casa. Sembra che stiamo facendo un safari, Michi. Ragazzi, into the wild ragazzi, penso alla natura, ci delvaggia. Oh, guardate che figata, abbiamo preso la nostra macchina, lì così, e questa è punta coco ragazzi, questo è all wash. ragazzi, voi non potete capire quanto è bello quel posto qua, ma guardate il mare, viaggia viaica, siamo a punta coco, all wash. ragazzi, abbiamo parcheggiato qui, questa vista. e adesso andremo al pranzo, più o meno, qua. noi mangiamo qua, oggi. e sotto, guardate che bella. sono le uova di coccodrillo, fate vedere, tanta uova. vogliamo andare a vedere, ma magari c'è un po' di due uno scosso, ci mangi bene. ragazzi, ma guardate dove siamo. ragazzi, ma guardate dove siamo. ragazzi, benvenuti a Venezia, e scusate al wash. ragazzi, siamo una bella banda, guardate quanti siamo. visto tra italiani, argentini e messicani. andremo a mangiare, pizza, andiamo a vedere. questa pizzeria è famosa, questa pizza con la ragosta, però va bene, facciamo perdere. guardate che lavorata. italiana, spagna, argentina, messica, e Italia. guardate un po' di pizza. guardate! 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 In questo locale qua, hanno rubato il logo Mc Donald, l'hanno chiamato Mc Donald Buongiorno ragazzi, siamo a fare colazione nello stesso posto di ieri C'è la tavolata Caffettino, americana Ragazzi, prendiamo il taxi, allora, uno di questi che ci porterà fino a Punta Moschito Questo sarà il nostro Ragazzi, siamo sul taxi Che ci porterà a Punta Moschito E niente, grazie Anne Maria Ragazzi, ma che avventure stiamo facendo Maria, dove stiamo? Punta Moschito Siamo arrivati a Punta Moschito Ci siamo messi qua sotto Questa è tutta la banda E questo è il mare di Olbos A Punta Moschito Questa pigna bianca è la lingua di sabbia In mezzo al mare E praticamente la cosa bella di qua è camminarci proprio sopra E sentirsi in paradiso Siamo arrivati alla lingua di sabbia ragazzi Guardate che spettacolo Qua faremo un bordello di foto Ragazzi, guardate questa lingua di sabbia Tra il mare e il mare Che spettacolo Olbosch Quasi è Natale Perché qua non c'è la neve E c'è la sabbia Facciamo palle di sabbia E facciamo quattro Oh ma che c'è? Ah cazzo No ragazzi, ma che figata è Siamo quasi a notare Siamo tornati bambini Andiamo a fare il bagno ragazzi Andiamo Andiamo a pranzo Andiamo qua in terzo posto Carino Entriamo Vediamo Questo è il nostro pranzo Buongiorno 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 Grazie E' ora di tornare a Flyer del Carmen Quindi salutiamo i nostri amici E i nostri clienti Ciao ragazzi Ciao Siamo al porto Stiamo tornando E' a casa Allora Adesso prenderemo Il ferry Che ci porterà A Cicilà E poi da Lina Van Pino a Praia d'Alzano Vamos Buongiorno Ragazzi Siamo tornati A Cicilà Ragazzi Prenderemo La van Questa Praticamente Che ci porterà A Playa del Carmen Ragazzi Siamo arrivati A Playa del Carmen Siamo stanchi Ma felici E' stata una bellissima Avventura Ci vediamo La prossima Ciao 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 Ciao